invito in pista contrassegnati dal numero trentaquattro gli atleti Nicolò Ciaffi e Marta Mazzini ci presentano via col vento posizione musica re dove vai vado a Charleston torno a casa mia ti prego ti prego portami con te no ne ho abbastanza di tutto cerco la pace vedrò se la vita può darmi ancora un po di serenità e di dolcezza tu sai cosa no so solo che ti amo questa è la tua disgrazia se te ne vai che sarà di me che farò francamente me ne infischio musica 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 Sì, basta di fare conmigo tutto lo che vuoi, e che mi manipulare la tua cadera, come un simple ruote quando juegas. Sì, basta di entrare e salire quando ti esplazca, di mio corpo come se fosse tua casa, arrasandomelo tutto quando passa. Sì, basta di entrare. Mi cora son con Carlao.